Il problema del riciclo dei rifiuti ogni giorno segna un bel meno nelle casse comunali, almeno per come è organizzata a Brindisi. L'affare lo fa solo la ditta che provvede alla raccolta dei rifiuti per conto del Comune, che la paga profumatamente ed invece non solo l'amministrazione potrebbe non pagare nulla, ma addirittura guadagnarci pure. E proprio a seguito delle rimostranze fatte dal Presidente della provincia Massimo Ferrarese sulla questione rifiuti, replica il consigliere provinciale del PDL Cosimo Ferretti, che annuncia nuove ed importanti iniziative a partire dalla prossima settimana. Un po' tutti gli addetti ai lavori puntano il dito contro l'autorità portuale per la cattiva gestione del porto di Brindisi, sia sotto l'aspetto programmatico che dell'ordinaria amministrazione. Gli agenti marittimi protestano per l'assenza di servizi a fronte del pagamento delle tasse dovute per legge. Qualcuno, come Teotiti, ha già spostato su Bari i propri interessi e le proprie navi. Di questo si è parlato ieri a Rebus, la trasmissione di attualità condotta da Renato Rubino. La replica oggi sul canale 116 di Puglia TV. Martedì 24 alle 11 per la sala conferenza di Palazzo Nervegna, Brindisi Benecomune consegnerà ufficialmente alle istituzioni le 10.220 firme raccolte, a supporto della richiesta di avviare un'indagine epidemiologica per poter definire con dati scientifici lo stato di salute della popolazione e la relazione con l'emergenza ambientale. Le firme sono state già depositate presso gli enti il 10 luglio scorso. La CGL si mobilita il prossimo 23 luglio contro i tagli alla salute previsti dalla Spending Review. Anche a Brindisi a partire dalle 10 la CGL si mobiliterà con un volantinaggio presso gli ospedali, le fabbriche e le piazze, non solo per protestare contro i tagli ma soprattutto per diffondere le proposte alternative. Nel mese di agosto gli uffici della Prefettura saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Il Consiglio Comunale ha i raggi X analizzato a freddo dai protagonisti. Questo l'argomento di Target, la trasmissione del venerdì condotta da Francesca Mevoli, che avrà come ospite in studio Antonio Pisanelli del Fli, Toni Muccio di Noi Centro e Riccardo Rossi di Brindisi Bene Comune. Target va in onda sul canale 116 di Puglia TV. Target va in onda sul canale 116 di Puglia TV. Target va in onda sul canale 116 di Puglia TV. Target va in onda sul canale 116 di Puglia TV. Target va in onda sul canale 116 di Puglia TV. Ole, credo che si tratta di riccardo Rossi di Brindisilu del suo canale 9 Pullit Süperni Farmкой. итуa Puglia TV. raft ma toga 119 di Puglia TV. 8. geworden del set per Pietro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.